Oh, la mezzaluna vada a scalì, il simbolo della mezzaluna diga con due coloni e ha presunto la forma dell'antare nella società. La boschia si chiama mezzarato. Ho sparato? Ho sparato? Non mi sono? Non mi sono? Ma 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 ma... Non mi sono? Non mi sono? Grazie a tutti. Non sapevamo niente. Ci siamo messi a piangere, ci siamo abbracciati io e mio marito, pensavamo proprio di morire perché nel frattempo che scendevamo le scale sentevamo i colpi di galassi che ci sparavano dietro, proprio addosso. Poi ho visto un ragazzo pieno di sangue e i pantaloni, non sapevamo però quanti morti ci fossero stati lì, non sapevamo niente. E niente, ci hanno portato, cioè tutta la notte ho pianto, sinceramente, impaurita. Io a dire la verità pensavo subito, dico ma che qualcuno ci sta sparando? Poi dico vabbè, subito dopo un altro, allora ci siamo resi conto subito che poteva essere stato un attentato, ma io il colpo siccome rimbombava pensavo fosse stata proprio una bomba. Abbiamo cominciato a spostarci, a camminare, poi di corsa.